Ben ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione di approfondimento di Tele Liguria Sud che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli. Da qualche giorno in città non si parla che della ciminiera dell'Enel, la ciminiera sopravvissuta alla ristrutturazione della centrale e adesso bloccata dopo la chiusura del 2021 della stessa centrale di Valle Grande. Il problema è quello di cosa fare di questa centrale, abbatterla oppure utilizzarla e tenerla come emblema di un passato industriale della nostra città. L'iniziativa è partita dallo scrittore Maurizio Maggiani sul secolo XIX, ha aperto la sua rubrica domenicale appunto lanciando questa sfida dicendo apertamente che era favorevole a mantenere questa centrale e questa ciminiera della centrale proprio per ricordare il passato di una industrializzazione che ormai non c'è più. E la città ha raccolto questa sfida di Maggiani e ora si parla coinvolgendosi ai cittadini di Limone, Melara, ma anche la classe politica. C'è diciamo un po' di entusiasmo intorno a questa iniziativa di Maggiani e la città si è divisa. Molti sono per conservare la ciminiera, altri invece dicono abbattiamola perché ricordo un passato che ha creato moltissimi problemi ai quartieri orientali della città, con una centrale che buttava fuori molte polveri, la desolforazione non ha risolto certamente i problemi nonostante l'investimento che alla fine degli anni 90 l'Enel aveva fatto per ristrutturare la centrale. Oggi ne parliamo con chi è? Con l'assessore all'ambiente degli anni 90, Borre Noveschi è stato assessore all'ambiente insieme a quando era sindaco Gianluigi Burafatto, Burafatto che decise con un atto proprio la chiusura della centrale perché l'acqua del golfo era aumentata di un grado creando grossi problemi soprattutto alla mitilicoltura del golfo. E allora ringraziamo Borre Noveschi per questa partecipazione, ha raccolto il nostro invito e con lui vorremmo subito chiedere contrario o favorevole a mantenere la ciminiera dell'Enel? No, distinto, appena ho letto l'intervento di Magiani, distinto mi è venuto di dire di sì, diciamo così. Perché? Perché non è che rimane tutta la centrale, avrebbe abbattuta la centrale, rimarebbe l'attore, no? Perché Magiani fa anche il discorso di studiare degli elementi di creatività, no? Ho visto che c'è già Moreno Ferrari, ecco il mio omonimo, che ha presentato proprio ieri sul giornale un progetto di faro, diciamo così. Perché? Per ricordare, perché di tutto quello che c'è stato nel passato qualcosa deve rimanere, diciamo, anche quello che c'è stato di non buono per i cittadini di Spezia, ma era buono per l'Italia perché produceva elettricità, diciamo così, no? E per ricordare il sacrificio anche che ha fatto Spezia per quasi 60 anni per la storia che ha attraversato nei confronti di questa centrale. Adesso questa era una mia posizione, diciamo così, sentimentale di Achito. Poi va approfondito ovviamente tutto, ci sarà l'interesse di Lennel a non spendere i soldi per abbattere la centrale, ci saranno tutti elementi che vanno valutati. Non deve essere un regalino alla città per poi non fare niente come sta succedendo sulle aree dell'Enel. Però, diciamo così, quello che è stato il passato di Spezia ci deve essere qualcosa che rimanga, diciamo così. E io mi sono ricordato... adesso dividerci tra quelli che sostengono la centrale come i nostalgici dell'inquinamento mi sembra totalmente sbagliato e strumentale, diciamo così, perché non è così. Ho visto che anche Italia Nostra e Legambiente, Stefano Stralbi, non ha proprio preso una posizione di principio consul. Si tratta di studiare l'elemento. Quello che mi fa specie è un po' il sindaco che ha deciso da solo che la cosa non si deve fare. Che non si deve fare. Ecco, è quel metodo di governare che a me non piace, perché sono quelle questioni che vanno discusse. Del resto si è visto subito che si è aperto un dibattito in città. Sono cose che vanno discusse perché riguardano la vita della città anche nei prossimi anni, quando uno non è più sindaco. Dice, ma ci sarà un mucchio di costi. Ma i costi li può anche coprire la LL, non è che le deve per forza coprire il Comune, diciamo. Ecco, però, per esempio, Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco del Monte Marcello Magra, ex segretario della UIL, dice che non è lo iutificio, per capirci, perché questa è una ciminiera di un'industria che è stata sì sul territorio di 60 anni, però non ha niente di industrializzazione, eccetera. Lei non è l'arsenale e non è neppure lo iutificio, su questo ha ragione, non è, diciamo così, un elemento di storia industriale, diciamo così. E' un servizio, però si inquadra in scelte, dove la questione dello sviluppo, e dunque anche dell'industria, in quegli anni in cui è stata costruita, è un emblema anche alla centrale, diciamo così. Cioè di un'Italia che facendo magari anche delle scelte sbagliate, come pole, una centrale, un centro e un perimetro urbano, però mirava allo sviluppo, mirava a migliorare le condizioni. Poi in questo ci sono state anche delle scelte sbagliate, insomma, però la gente pensava che ci fosse uno sviluppo. Ma mia mamma mi diceva la domenica, ti vesto come il figlio del dottore. Cioè c'era questa cosa qua che oggi, questa fiducia nel futuro, non c'è più, diciamo. Che oggi il portofono non c'è più, non c'è più. Adesso ha fatto dei danni, ma va inserita in quel contesto anche. No, ma poi Veschi, comunque, questa, ecco, che è favorevole invece a mantenere la ciminiera, non lo fa soltanto considerando, come dire, una testimonianza della storia dell'industria della città, ma anche in previsione di un'attrattività. Di un'attrattività, sì. Potrebbe diventare come... Perché mi dice uno, ma se viene un turista, vede la ciminiera, è una questione che conosciamo soltanto noi. Ma se ci fai qualcosa, tipo la proposta di Ferrari, è una cosa che... e nello stesso tempo i cittadini, quando entrano in città, di notte hanno questo faro che ci illumina... La cosa curiosa che ho trovato io, però, leggendo i giornali, leggendo il secolo XIX, è che mentre gran parte dei politici sono contrari al mantenimento della ciminiera, nel quartiere di Melara quasi tutti sono favorevoli e sono quelli che hanno subito i guasti dell'inquinamento dell'era. La cosa curiosa è quella lì. Perché i politici molto spesso non capiscono. Questo è detto da un ex politico. Da un ex politico. Cioè non capiscono perché ragionano tutto in termini di consenso immediato. Allora dico, no, se io sostengo il fatto di abbattere la ciminiera, allora sono coerente con tutte le battaglie ambientali che ci sono state. Ma è un discorso un po'... Riduttivo. Un po' riduttivo, un po' di pochezza, diciamo. Mi dispiace per loro. Però ti ripeto, io poi posso arrivare anche a concludere che non va fatta, perché ci vogliono tutti i dati, ci vogliono tutte le cose. Ma Diacchitto perché dire subito no? Perché ha inquinato. E tutte le industrie hanno inquinato. E quella lì più degli altri, però proprio per questo, e soprattutto nel quartiere, siccome che ci sono state le lotte contro l'inquinamento. Poi bisogna considerare che Spezia, sono spezzini anche chi lavorava dentro la centrale. E quelli che lavoravano dentro la centrale, a me mi hanno fischiato, quando con Burafatto abbiamo chiuso la centrale. C'era un grande corteo in Viale Italia. I lavoratori? I lavoratori mi hanno fischiato, c'era tutto il corteo dell'Ener che mi fischiava. Ma erano impiegati e operai con un altro livello di qualificazione. e tenete conto che molti che sono andati in pensione sono andati nei paesi arabi a costruire centrali, diciamo così. Perché la qualità, diciamo così, dei dipendenti era molto alta, c'era professionalità. Ecco, all'epoca in cui Burafatto chiuso la centrale, ovviamente poi c'è stata la portesta dei lavoratori, molto dura tra l'altro, perché si pensava che la chiusura andasse avanti per parecchio tempo, se non definitivamente. Ecco, all'interno del suo partito, come era vista questa chiusura? No, erano gli anni in cui... Lei era assessore all'ambiente, ma faceva parte del PC. Erano gli anni in cui prevaleva, erano dopo l'89, diciamo così, la scoperta anche da parte dei partiti della sinistra, dell'ambiente, diciamo, per cui, è vero che il PC aveva sostenuto il referendum per la chiusura della centrale. Era stata una posizione coraggiosa, perché noi all'Ener, appunto, con quei dipendenti professionali, avevamo una sezione fortissima, diciamo così. Il PC era molto radicato dentro la centrale. Poi c'era il problema del rapporto con il sindacato, perché sia la CGL, la CIS e la UIL erano contro. Però lì la chiusura è nata da questo, che c'è stato un dibattito in consiglio comunale dove Banti, bisogna riconoscere, Egidio Banti, aveva sollevato la questione del calore dell'acqua, diciamo così, e aveva fatto anche una polemica sui controlli. E noi avevamo deciso di mandare Baston, che era all'Asla, a fare i controlli e da quei controlli lì è emerso che non rispettavano la legge Merli, diciamo così. Baston commentava, diceva, è una legge fatta per i Merli. Sulla base di questi dati si è deciso di non far finta di niente, ma di andare avanti, anche perché eravamo in una lotta dura con l'Enel sulla questione della desolforazione. Era stata anche un'arma, diciamo così, di contrattazione con l'Enel. Per cui la cosa è stata molto dura, ma c'era un grosso consenso magari populistico, però c'era un grosso popolare, un grosso consenso in città, diciamo. Tant'è vero che per riaprire la centrale hanno fatto una scelta all'italiana, cioè hanno alzato i livelli della legge Merli. tipica soluzione italiana. Quindi la ventesa si era spostata da Spezia, ovviamente a Roma, e poi la soluzione è andata in Parlamento, e c'era le acque erano rimaste. Perché vista da Roma sono cose incomprensibili, però vista da Spezia la centrale in mezzo alle case, nel perimetro urbano, io facevo la quinta elementare, mi ricordo anche quando è stata inaugurata. Perché lei abitava a Melara? Sì, sì, al termo. Al termo. Ci avevano portato dalle scuole dove adesso è venuto Giulio in Tonaco, che ci avevano mandato gli studenti della Fontana in una scuola che era chiusa da anni, l'amministrazione, e ci hanno portato a vedere l'inaugurazione e mi ricordo segni che c'era il Presidente della Repubblica, me lo ricordo proprio visivamente, diciamo così. E anche il punto dove eravamo collocati noi come ragazzi. Che poi tra l'altro era una delle centrali più grandi d'Europa, termoelettrica. E lì tutti i terreni erano spezzettati, no? Erano spezzettati, per cui quando hanno deciso di costruire l'Enel, non è che la gente era un po' sproveduta, non è che hanno costituito un comitato dei proprietari vedendosi in mano ad avvocati, così, per vedere la contrattazione quando prenderci. No, mi ricordo benissimo che sono venuti due funzionari dell'Enel in casa della mia nonna che aveva un pezzettino di terra. Di fronte a gente semplice è sproveduta, diciamo, e hanno comprato quei terreni per due soldi. Nessuno ha fatto un'azione per, diciamo, aumentare le capacità di contrattazione dei proprietari rispetto a quei a quei terreni, diciamo, che non erano grandi proprietari, erano pezzi di terra, di gente del termo, di melare, così non c'era un unico grande proprietario, diciamo. Ma non ci fu un movimento d'opposizione contro il progetto dell'insediamento centrale? No, il PC non era il governo, ma sinceramente devo dire che quando è stata costruita non c'è stata una forte opposizione, perché c'era il problema dell'occupazione come questione centrale e bisogna tenere conto che spesso è avuto anche dei drammatici momenti, con forti licenziamenti in arsenale, all'ottia omelara, alla termomeccanica, erano quegli anni lì, erano duri, anni duri, insomma. Senta, Veschi, lei come amministratore, è stato per tanti anni amministratore, ma da amministratore e da cittadino, certo, con occhi più attenti, più arguti, più esperti, ha visto passare tanti sindaci nella nostra città, li ha visti appunto come amministratore e come cittadino. Qual è stato secondo lei il sindaco che più degli altri ha lasciato un'impronta importante, un segno forte nella città? Se parlo dei cittadini e dei sindaci eletti direttamente, per non andare troppo indietro, per non andare troppo indietro degli anni, penso Pagano con la pedonalizzazione del centro città, che ha fatto una grossa pedonalizzazione, che non era diciamo così scontata, c'era una forte opposizione dei commercianti e così via, che oggi invece è valutata positivamente, diciamo così, perché è vissuta anche di più, perché si sono create le condizioni con la pedonalizzazione. Infatti, bisognerebbe fare delle scelte perché adesso che governa il comune ha reintrodotto le macchine, per esempio in piazza del mercato, nell'immediato può andare incontro anche le esigenze degli ambulanti che sono nella piazza, però come programmazione del territorio non è una grande cosa, diciamo. Infatti, ecco, con la pedonalizzazione appunto ci insegna che la politica a volte può, come dire, precedere, anticipare le cose perché la cosa che ormai manca le nuove amministrazioni anche le vecchie amministrazioni di fronte alle emergenze hanno fatto degli errori, diciamo così, cioè non puoi dire che tutto è andato bene come raccontano adesso che l'Italia va bene quando la gente poi nel concreto non è che veda le cose che non vanno bene per cui molti errori sono stati fatti, però c'era l'idea della programmazione e anche della gestione del territorio per esempio sulla questione delle aree Enel il sindaco ha detto il sindaco attuale Peracchini ha detto che non siamo mica nell'Unione Sovietica che la politica deve indicare cosa fare nell'area dell'Enel diciamo così ma non siamo neppure negli Stati Uniti del New Deal dove la politica è intervenuta e ha permesso agli Stati Uniti di uscire dalla depressione e cioè questa idea che la politica sta a guardare tutto quello che viene sul mercato per cui se l'Enel non ha interesse a intervenire in un'area che tra pareti c'è il porto la ferrovia e l'Emilia Romagna dietro e tutte queste cose qua e la politica zitta non fa proposte non dice niente perché aspetta cosa farà l'Enel è proprio quel meccanismo di governo che non crea le condizioni per lo sviluppo che ci sarà nel futuro è questo l'elemento fondamentale che bisognerebbe discutere a Spezia che non è il fatto che ci siano tanti turisti che sono stati determinati come si diceva prima da Forceri che ha fatto venire le navi crociera e ho anche la penodonalizzazione e da tutte queste cose qua perché sono state previste non ci si può fermare al fatto di accontentarsi che ci sono tanti turisti bisogna programmare il territorio di fatti la destra quando governa i comuni non fa mai i PUC gli strumenti di programmazione territoriale ma fa delle varianti sulla base degli interessi privati o poi cercando di condizionare di equilibrarli rispetto al territorio però basta vedere la questione del canaletto dell'utilizzazione dalla maggiolina diciamo così sono tutte varianti che contrattano col mercato e non invece una programmazione del territorio come si faceva una volta dove la politica esercitava un potere diciamo così era il potere di decidere le scelte territoriali magari sbagliate anche sbagliate però adesso la politica non decide praticamente niente se non se non poche robe ecco poche robe ma non si costruisce la città del futuro si fa l'esaltazione di quello che c'è ma non si contribuisce a creare le condizioni di una città futura ecco noi siamo almeno la nostra città è abbastanza brava nel discutere queste cose adesso è un po' di settimane che stiamo intorno a questa iniziativa lanciata da uno scrittore con cittadino Maggiani e discutiamo della ciminiere eccetera non discutiamo invece e non pressiamo l'Enel sulla cosa vuol fare su questi 70 ettari di territorio l'unica cosa che c'era è un progetto adesso non mi viene in mente il termine comunque un progetto per costruire da finanziare con il PNR l'ha tolto perché non gli conveniva oppure non era nelle condizioni ma secondo lei non c'è il pericolo che discutendo di questa cosa un po' effimera poi perdiamo il vero obiettivo che è quello il pericolo vero è questo ce l'ho detto io all'inizio che questa discussione non deve bloccare l'attenzione principale sulla utilizzazione di quelle aree lì ma perché Veschi si sente così poco la voce dell'opposizione ecco voi non con lei e molti altri che non la pensano come che amministra la città non si sa veramente che idee abbiano perché una volta quando c'era la legge proporzionale i consigli comunali contavano molto perché erano anche decisivi nelle elezioni del sindaco c'erano dei limiti c'erano anche i momenti di instabilità però c'era il pregio di far emergere dal consiglio comunale nel dibattito e nelle decisioni delle personalità Grillo è nato in consiglio comunale a Spezia Ferdighini l'avvocato Bevilacqua erano tutte personalità riconosciute in Italia e in Spezia dai cittadini perché erano portatori di idee politiche con le elezioni di sindaco i consigli comunali costano molto di meno e come i parlamentari una volta i parlamentari erano conosciuti tutti spesso a meno che uno non abbia affatto il consigliere comunale o l'assessore di Porlando anche la Paita non si conoscono manco i parlamentari sono degli sconosciuti diciamo perché con le liste bloccate vengono non eletti dai cittadini ma eletti sì anche dai cittadini perché danno il voto al partito ma soprattutto decidere come è formato il Parlamento lo decidono le segreterie nazionali dei partiti e non i cittadini e questo ha svuotato il ruolo politico del consigli comunale questo è il dubbio per cui un partito che ha l'opposizione deve fare le sue battaglie in consiglio comunale come in parte sta facendo poi vorrei dire una cosa sull'attività del gruppo consigliare ma deve soprattutto costruire come si faceva una volta dei rapporti con i quartieri con il territorio diciamo così perché le persone non possono vedere sentono la politica distante se diventa soltanto un dibattito tra il sindaco il consigliere comunale il coro tutta politica diciamo così va costruita diciamo così delle iniziative anche spuntane una volta c'erano purtroppo i consigli di circoscrizione che a livello nazionale anche noi abbiamo sbagliato sciogliendoli sciogliendoli e erano però un momento in cui i cittadini si formavano perché erano praticamente dei piccoli consigli comunali e uno conosceva bene i problemi del quartiere e la gente sapeva a chi rivolgersi ecco il gruppo consigliare proprio in questi giorni ha sollevato un problema a mio parere molto giusto che gruppo consigliare quale? gruppo consigliare del PD perché io sono rientrato nel PD dopo scontato sono stato sei anni fuori dal PD dal PD cioè questa questione di 4 euro delle automobili adesso la transizione deve essere una transizione giusta cioè non può andare a scapito dei poveracci è su un comune che introduce il divieto dei 4 euro in città senza preoccuparsi di quello che non ha i soldi per comprarsi l'automobile nuova diciamo così preventivamente doveva fare delle scelte per esempio sull'abbassamento del prezzo dell'autobus a a chi è costretto a venire in città non più in macchina diciamo così oppure un abbonamento specifico per quanto riguarda il centro città dedicato a quelle fasce lì con un prezzo più macro addirittura gratuitamente cioè questo è il problema che anche la transizione ecologica va governata cioè non va lasciata a se stessa cioè la cosa più facile per il comune questo provvedimento comunque l'hanno rinviato di un anno sì l'hanno rinviato di un anno e anche dal punto di vista del principio giusto ma come dimostrano tutte le esperienze in Francia i gilet gialli gli agricoltori l'altro giorno in Germania se non gestisci la transizione ecologica prevedendo preventivamente delle scelte sociali che garantiscano diciamo così le popolazioni più sbalacciate nel nostro caso sinceramente il comune non voglio fare il difensore dell'amministrazione però ha previsto intanto tantissime deroghe quindi perché ha bisogno eccetera poi la precorribilità degli assi principali quindi chiunque sinceramente anche con le auto che dovrebbe essere però potrebbe incentivare il trasporto pubblico il favorire la cosa questo sì però ricordiamoci che nel 2018 il comune aveva subito un'infrazione per i tassi di inquinamento troppo alti quindi pensiamo anche che è importante abbassare quel livello perché ci saranno dei casi sempre più nel futuro per cui combinare la la città della transizione ecologica con la giustizia sociale sarà fondamentale diciamo però sarà fondamentale anche cambiare gli stili di vita Moreno Veschi e sarà indispensabile e sarà veramente impopolare purtroppo sì ma gli stili di vita sono così fatti che la transizione sociale non gestita colpisce le categorie più deboli e quelli che sono forti diciamo non ricopisce il certo meglio riflessivo del centro città diciamo così oppure il coro non vengono tanto colpiti diciamo e questo è un punto che va tenuto che va sempre tenuto di consul cioè la politica se ne è fregata per troppo tempo non è più abituata a parlare delle questioni sociali diciamo cioè la nautica va bene ma il fatto che ci sia un bucchio di subappalti con quelle cose la politica non ne parla la Fincantieri va benissimo ma prendiamo l'autobus io uso l'autopubblico prendiamo l'autobus al Mugiana alle 5 per vedere chi sale su quell'autobus con gente che non ha fatto manco la doccia viene dal Banga esce da questo tutti appalti e subappalti diciamo la politica spero che il PD con la nuova gestione Sline ritorni a fare politica parlando dei problemi della gente ma non c'è proprio più l'abitudine cioè in Italia come d'altra parte in Europa in tutto il mondo sembrano cose la politica non deve fare la politica deve fare la politica ma che cos'è la politica se non risolvere i problemi della gente di salari di queste cose qua per anni non ne hanno mai più parlato comunque tutti i politici ma io dico anche a livello locale non soltanto non diamo soltanto la colpa nazionali anche a livello locale credo Orlando non è per esaltarlo però Orlando ha fatto alcune rifiormette quando era ministro del lavoro importanti per esempio la cassa integrazione adesso lo può avere anche un dipendente di un negozio commerciale di un negozio commerciale prima non era così gli appalti e i subappalti hanno tolto la norma il nuovo governo Merlo ho visto però prevedeva che il contratto nazionale di chi ha vinto l'appalto valesse anche per i subappalti l'altro giorno la magistratura con una fabbrica adesso non mi ricordo come si chiama con una fabbrica però di Campi Bisanzio a Firenze ha respinto 181 licenziamenti perché c'è una legge per cui chi fa la delocalizzazione deve prima discutere con il sindacato lì non l'avevano fatta con gli enti locali la reindustrializzazione e dove collocare sono piccole cose che però sono cose sono cose importanti di cui la politica non è più abituata a parlare però Veschi tra le alcune cose sono state fatte da Orlando quando era ministro del lavoro però c'è anche da dire che quello che oggi è diventato un po' il cavallo di battaglia della sinistra il salario minimo potevate farlo anche voi prima di di sì per la verità Orlando era a buon punto poi era un governo con la Lega poi è saltato il governo la trattativa con il sindacato non è andata avanti per troppo tempo siamo stati condizionati da una posizione di tutti i tre sindacati perché la posizione della CGL e della Will è cambiata ma sino a due anni fa tre anni fa sia CGL sia Will sostenevano la tesi che il salario minimo avrebbe indebolito la contrattazione diciamo così mentre le esperienze europee tipo in Germania dimostrano il contrario che aumenta la capacità di contrattazione per esempio non so in che città hanno votato il fatto in che regione hanno votato un ordine del giorno in cui le società che fanno gli appalti con i comuni e con le regioni devono comunque rispettare il salario minimo di 9 euro cioè sono cose che si possono fare rischi c'è un grande evento di destra che soffia non soltanto in Italia in Europa ma anche nel mondo tutti i politologici sostengono che le ragioni di quel successo della destra sono dovute al fatto che è riuscita ad interpretare a rappresentare i perdenti della globalizzazione dando loro sicurezze o perlomeno promettendo loro sicurezze presidiando i confini nazionali questo sovranismo eccetera da sicurezza per accetti che voi invece non siete stati più capaci di rappresentare lei condivide questa analisi? cioè la sinistra ha perso rappresentanza nel mondo del lavoro e si è frammentato anche elettoralmente bisogna tenere conto anche del 40% che non va a votare e che non si esprime nei sondaggi però la destra in campagna elettorale cerca di identificarsi in queste cose poi nelle cose che fa fa il contrario perché sul patto di stabilità a mio parere non ha difeso gli interessi nazionali diciamo perché ritorniamo all'austerità mentre la proposta della commissione europea all'inizio era più avanzata poi i francesi e i tedeschi ci hanno fregato diciamo poi il 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 reddito di cittadinanza tolto e la pensione di cittadinanza tolta impoverisce è un colpo alla povertà diciamo così alla lotta è un colpo alla lotta per la povertà in Liguria io me lo sono segnato ci sono ci sono 31.915 nuclei familiari che avevano diritto al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza 59.152 persone e la gente è di oggi la notizia sul giornale che i residenti in Liguria che vanno all'estero sono 168.000 l'11,2% della popolazione la maggioranza dei quali è tra i 18 e i 47 anni terribili questi dati terribili questi dati dica una cosa buona che ha fatto la giunta per Acchini negli ultimi sette anni che governa ha indovinato la questione dei rifiuti all'inizio e ora cosa si aspetta adesso cosa può fare in questa città per crescere per far crescere l'economia il lavoro quali sono i progetti che potrebbero essere vincenti riprendere comunque per esempio la questione della qualificazione dei quartieri ho visto che ha fatto dei quartieri periferici con grossi interventi come si era cominciata a fare con i finanziamenti nel Levante ho visto che hanno fatto una proposta per Cadimare che comunque non piace alla cittadinanza perché le proposte vanno anche discusse con la cittadinanza deve curare di più i progetti di riqualificazione delle periferie anche se sono molto attenti bisogna riconoscerlo ai piccoli lavori e su questo una certa attenzione da parte della Giunta mi sembra che ci sia e poi ripensare a qualcosa che è stato interrotto tipo la questione di congiungere i giardini con il mare non accontentarsi dei 40 ettari di sbocco al mare ma di fare un progetto complessivo di riqualificazione della passeggiata a mare l'ultima cosa cos'è che l'ha convinta a ritornare nel PD dopo la scissione io stavo bene anche in articolo 1 perché la pensavamo tutti alla solita maniera il pensiero unico il pensiero unico ed è bello vivere in una comunità dove praticamente ti puoi dividere sulle tattiche immediate ma sull'ideologia di fondo sei sei d'accordo diciamo però il PD è rimasto il principale partito della sinistra diciamo così per cui la nostra esperienza dal punto di vista elettorale non ha avuto successo anche se ha avuto successo dal punto di vista delle idee perché il PD nel suo complesso con l'elezione della SLAI si è spostato sull'esigenza di recuperare una rappresentanza nel mondo del lavoro e così via è questo e certo c'è la difficoltà dell'insieme della sinistra perché mentre il centrodestra è il vecchio centrodestra del bipolarismo dove cambiano i rapporti di forza al loro interno ma gli elettori rimangono sempre quelli di fatti non c'erano la maggioranza la maggioranza del governo hanno vinto perché erano uniti noi abbiamo perso perché stoltamente eravamo divisi diciamo così la spinta al cambiamento che c'è stata dopo con Grillo dopo sino al 2013 e poi dopo il 2013 ha inciso soprattutto nello schieramento di sinistra il centro-sinistra non c'è più l'Ulivo non c'è più perché è stato strutturato da questa esigenza di cambiamento che ha trovato uno sbocco nel movimento nel movimento 5 Stelle per cui si è abbassato il consenso verso la sinistra radicale di fondazione era un partito che a Spezia prendeva l'otto il nove l'undici l'undici per cento quella storia lì è finita mentre loro sono rimasti dal passato noi ci dobbiamo adeguare al nuovo e il nuovo è il fatto che non c'è alibi alla non c'è alternativa alla possibilità di un accordo tra il il partito democratico e il movimento 5 Stelle qual è la definizione politica da cui si sente più lontano radical chic riformista o moderato radical chic immaginavo vedremo prima secondo lei il nuovo ospedale del alfelettino o fincantieri in arsenale ma è più possibile fincantieri in arsenale ottimista ce la farà il PD ad uscire dalla ZTL e a entrare nelle periferie in città è quello che ho sostenuto per tutta la trasmissione ma ce la farà? è un lavoro difficile non so se ce la farà è possibile che Andrea Orlando si candidi alla Presidenta della Regione Liguria come ha lasciato intendere o farà invece retromarcia come prevede Raffaella Paita ma Raffaella Paita ha in testa sempre la polemica con Orlando e con il Presidente dell'autorità portuale è veramente ossessionata diciamo così da questo problema di Orlando io personalmente lo vedrei bene però prima ci sono le elezioni europee e poi il PD non può andare con una candidatura secca per fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle che ha espresso apprezzamento verso Orlando ma giustamente ha detto prima di parlare dei nomi vediamo se ci sono le condizioni dell'Alleanza si chiude l'intervista a Moreno Vessi che ringraziamo grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e arrivederci al prossimo Tamburo Battente buona serata a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!